A Dossuna, terza amichevole stagionale per la nuova bustese Roncalli, il Sarone, è l'occasione per presentare anche le nuove divise. Al ventiquattresimo, palla in profondità per Anzano, l'attaccante serve Romano, che salta al portiere e fa 1 a 0. L'intesa fra i due bomber trova conferma al quarantesimo, questa volta la zuccata e di Romano, la zampata di Mercuripo, il tocco finale di Anzano, 2 a 0. Nel secondo tempo, nonostante le tante nuove forze fresche in campo, il risultato non cambia, bustese Roncalli batte Sarone, 2 a 0.